Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove c'è un chilometro di coda per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. In A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 veicolo fermo in avaria tra Firenze Nord e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. Infine per i treni l'Euronotte 295 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 369 minuti di ritardo. Fermo a Firenze e Santa Melanovella alle 12.28 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!